Dottoressa Barbaro, la scienza, ancora una volta Reggio Calabria protagonista, in particolare le scienze forensi, applicate in ambito processuale, quindi l'obiettivo rimane la ricerca della verità, la tutela dei diritti coinvolti, insomma dei diritti dei soggetti coinvolti in ambito processuale, ma certamente l'obiettivo finale è sempre quello di avere una giustizia vera, equa e uguale per tutti. Sicuramente l'idea di organizzare questo convegno è nata proprio dalla necessità di mettere a confronto non soltanto esperti nel settore delle scienze forensi, ma anche cultori delle scienze forensi stesse e anche studenti che si avvicinano per la prima volta a questo mondo al fine di fare comprendere quelle che sono le problematiche a cui gli esperti vanno incontro come tecnici di questo campo, ma anche al tempo stesso magistrati e avvocati, quando si trovano a dover valutare quello che è un dato scientifico e quindi la validità di quella che può essere la prova, come per esempio la prova del DNA in ambito processuale. Sicuramente il problema delle scienze forensi è legato alla qualità di coloro che esercitano questo tipo di attività, qualità in termini sia di laboratori che siano in grado di dimostrare una competenza necessaria per seguire un certo tipo di accertamenti, e soprattutto qualità di coloro che vanno poi a interpretare il dato. E questo è il messaggio che noi vogliamo dare, vogliamo far capire appunto che questo campo, che è diventato un po' di comune interesse grazie anche alle numerose trasmissioni televisive, in realtà è un campo molto complesso, che richiede un'alta specializzazione, un'alta competenza da parte degli operatori.